Spirito di Dio Consacrami, vieni ad abitare dentro me Spirito di Dio guariscimi Spirito di Dio rinnovami Spirito di Dio consacrami Vieni ad abitare dentro me Spirito di Dio Spirito di Dio riempici Spirito di Dio battezzaci Spirito di Dio riempici Spirito di Dio battezzaci Caro Don Alberto, ciao, sono Silvia e vorrevo ringraziarti per l'invito che hai esteso alla nostra associazione e fondazione per animare il sabato e la domenica 19-20 ottobre come giornata missionaria di quest'anno, 2024, nella tua parrocchia di Servino. Ecco, sono rimasta molto colpita soprattutto per la generosità ma devo dire anche queste persone magari un po' diffidenti all'inizio ma poi un'accoglienza comunque calorosa, persone interessate. Credo merito anche del loro parroco, tu sei davvero una figura carismatica credo, ecco. Grazie ancora e speriamo a presto. Caro Don Alberto, ti ringraziamo per averci invitato nella tua parrocchia di Servino ad animare la giornata missionaria mondiale 2024. Io sono Fulvia, sono rimasta molto contenta per l'ospitalità ricevuta e ringrazio ancora di cuore perché questa celebrazione mi ha reso molto solida. Caro Don Alberto, ti ringrazio di averci invitato nella tua parrocchia di Servino per animare la giornata missionaria. Io sono Brunella e sono rimasta molto contenta per aver partecipato a questa giornata perché ho visto nei tuoi parrocchiani felicità, gioia, generosità, tanta partecipazione. E' difficile al giorno d'oggi trovare ancora persone così attenti e generose al prossimo. Si vede che sei un buon pastore e che loro accolgono con il cuore la tua parola. Caro Don Alberto, ti ringraziamo per averci ospitato nella tua bellissima parrocchia di Servino ad animare la Santa Messa nella giornata missionaria 2024. Io, Paolo, sono rimasto contento ed emozionato per la partecipazione alla Santa Messa di tanti i tuoi fedeli e soprattutto per i bei gesti di carità e di attenzione alla nostra associazione e fondazione. Ti mando un abbraccio e un arrivederci a presto. Caro Don Alberto, ti ringraziamo per averci invitato nella tua parrocchia di Servino per animare la giornata missionaria mondiale 2024. Io, Silvana, mi sono portata a casa nel cuore tante emozioni. Per me il momento più bello è stato quell'abbraccio condiviso con la moglie del sindaco Diego. Grazie di cuore, un caro saluto e a presto. Caro Don Alberto, volevo ringraziare per la sua generosità e per la gente bellissima di Servino che ci hanno accolto questo weekend spirituale che abbiamo vissuto alla sua parrocchia. Io sono Blanca e sono rimasta molto colpita per il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi nella sua parrocchia. Grazie infinito e che Dio la benedica. Io ti adorerò Del tuo tempio ti adorerò Per la prima volta siamo stati in una parrocchia, una bella parrocchia a Servino, per la giornata missionaria mondiale. La nostra bandiera è stata questa piccola maglietta di Elijah che viene dal Kenya. Guardate tutti questi buchi, guardate questa maglietta. Voi la mettereste a un vostro figlio. Non lo useremo neppure come straccio. Eppure i bambini del Kenya sono vestiti così. Questa bella maglietta ha circolato per la parrocchia, piena, piena di gente e ha saputo commuovere la gente. Questa serata abbiamo portato a casa non soltanto un contributo economico importante, ma soprattutto il cuore di tanta gente. Veramente questa giornata mondiale della missionarietà della Chiesa è stata per noi un grande ingresso anche in diocesi. Domani continuiamo questa nostra grande attività. E se siete a Servino vi aspetto tutti. Ciao, Gigi. Grazie. 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 Grazie.